Roberto Andò, nuovo festival del teatro greco di Siracusa, abbiamo due tragedie che ci sono già state rappresentate e poi abbiamo una commedia inedita per questo teatro, ci riassumi un po'? Il tema è quello del potere, noi cerchiamo sempre di legare le scelte a un focus che le accomuni e con Luciano Canfora e il sovrintendente, il commissario abbiamo individuato due tragedie che sono state rappresentate variamente perché Eracle è stato rappresentato solo una volta a Siracusa e insieme alla tipo a Colono sono due tragedie che consentono di mettere a fuoco questo aspetto un po' sfuggente, cangiante del potere, del suo volto, noi siamo abituati proprio anche oggi a vedere che spesso il potere si mostra con un volto illegittimo, con un volto arbitrario, a volte anche ridicolo francamente se uno pensa a cosa succede oggi negli Stati Uniti ha questa sensazione e quindi è un'occasione interessante per cogliere quella differenza che a volte è anche impalpabile tra l'eroe e il tiranno e appunto è tra anche l'altro volto che è quello che è più frequente oggi la commedia I Cavalieri di Aristofane è una commedia praticamente vergine perché non è mai stata rappresentata è straordinariamente interessante e risonante oggi perché ci parla di quello di cui oggi non si fa che parlare cioè il populismo, che cos'è il populismo? Ora Aristofane ha una risposta chiara, è una commedia pensata come obiettivo per demolire in qualche modo mettere in ridicolo la figura di Cleone, un politico molto noto in quell'epoca e parla del rapporto servile, adulatorio, del politico con il suo popolo e questo oggi risuona in un modo particolarissimo A volte ci sorprende come le tragedie greche così lontane nel tempo, nello spazio anche, siano proprio attuali cioè paragonabili ai nostri tempi, al nostro mondo Assolutamente, noi siamo su una scena che è già stata calpestata, abitata e ricordo quella frase bellissima di Bertrand Russell che dice che tutta la filosofia occidentale è una postilla a Platone ecco, noi siamo una postilla ai greci e quindi da questo punto di vista era importante anche trovare, tener fede a quello che l'anno scorso avevo, nel prendere diciamo questo incarico, avevo pensato fosse giusto per Siracusa togliere un po' di polvere e far sì che questo non fosse soltanto un luogo di culto dove come in tutti i culti si fa sempre la stessa cerimonia ma che le cerimonie cambiassero, sorprendessero e quindi ci vogliono degli ufficiali in grado di farlo e quest'anno abbiamo internazionalizzato la scelta della regia con dei nomi importanti come quello di Gianni Scoccos grandissimo regista scenografo e di Emma Dante Grande e gradito ritorno, no? grandissimo ritorno ma non ha mai fatto una tragedia a Siracusa e non è mai, cioè anche quello è un obiettivo che sto perseguendo di coinvolgere persone che non sono mai state coinvolte dall'Inda e mi piaceva perché per Emma stessa è una sfida è un lavoro che lei non ha mai fatto, ha sempre riscritto qui invece deve confrontarsi con un testo che è quello che è e quindi mi faceva molto piacere appunto perché sarà sorprendente per quello che mi ha detto e quello che ha voglia di fare e mi sembra molto sorprendente e interessante e per la commedia teniamo fede al patto di tenere vivo il rapporto tra il pubblico e il codice comico perché è forse la cosa che si è perduta di più nel tempo è più facile, la tragedia è rimasta intatta per noi cioè sono archetipi moventi che ci accomunano a noi contemporanei nello stesso modo in cui si stringevano intorno a quelle figure i greci e la commedia no, la commedia si è perduta l'anno scorso abbiamo fatto un esperimento riuscitissimo con le rane di Barberio Corsetti e Ficarra e Picone e mi sembra importante tenere fede a questa possibilità, questa linea quindi ho chiamato Giampiero Solari che è il maestro, il cervello di un certo tipo di comicità in Italia e che è un regista molto importante che può sicuramente proseguire questa linea Senta, a proposito di novità e di cambiamenti noi ci siamo incontrati al cinema all'uscita del suo film Le confessioni con Servillo e so che adesso sta preparando un altro film però vira appunto verso la commedia una storia senza nome con Galsman, Michela Ramazzotti chi altri? Renato Carpentieri e Laura Murante Ci può accennare qualcosa? Io sto girando e siccome quando si gira non si può dire nulla dico soltanto che appunto come ho detto è un ritorno su cose che mi interessano temi che mi interessano ma con una... come dire... abitando dentro quella patria che è la leggerezza e dentro la leggerezza ci può essere tutto ovviamente quindi non saprei definire il film se è una commedia, è un giallo forse lo capirò solo alla fine Quindi per quello si chiama una storia senza nome? Una storia senza nome, sì e c'ha anche un significato perché proprio il rapporto tra... il film parla del rapporto tra l'immaginazione e la realtà Grazie mille Grazie